Buongiorno, un amico mi ha chiesto ieri se davvero l'abito fa il monaco. Allora, io ho pensato di leggervi una frase di Hannah Arendt che credo che rivalti un po' l'idea che noi abbiamo appunto dell'apparire. E poi passiamo a vedere questa serie di personaggi che ho messo in fila. E' un testo tratto dalla vita della mente, che è uno degli ultimi libri che Hannah Arendt stava scrivendo e non ha terminato. Essere vivi significa essere posseduti da un impulso all'autoesibizione che corrisponde al dato di fatto del proprio apparire. Gli esseri viventi fanno la loro apparizione come attori su una scena allestita per loro. L'abito fa davvero il monaco e ovviamente lo fa molto di più per questi personaggi. Questo è Palmiro Togliatti, è un signore che è nato nel 1893. I primi che vedremo sono tutte persone nate nel XIX secolo. Non è un professore di latino e non è neppure un impiegato. E' il segretario generale del Partito Comunista Italiano. Lo è stato per molti decenni. La cosa interessante, qui si vede dietro anche un famoso pittore, no? Guttuso. La cosa interessante, per cui lo volevo paragonare a quest'altro personaggio, anche lui è nato nell'Ottocento. Sono dieci anni di differenza, per lo so modo, tra l'uno e l'altro. Questo è Alcide De Gasperi. Sono come due topi di biblioteca in fondo, non sono dei condottieri, però questi signori hanno fatto la storia del nostro paese nel dopoguerra e non solo. Che cos'hanno di particolare? Hanno gli occhiali. Gli occhiali sono un simbolo della borghesia liberale, ovviamente gli occhiali nascono nel Medioevo, non si sa bene chi li ha inventati, ma si diffondono soprattutto tra la borghesia dopo il 1789. Non sono occhiali griffati come oggi, anche se effettivamente, se guardate bene, è tornato un po' di moda questo occhiale che Palmiro Togliati porta in questa foto. Ma anche quelli di De Gasperi non sono completamente scomparsi. È curioso che gli occhiali identificano gli intellettuali. I Khmer Rossi in Cambogia, i terribili Khmer Rossi, uccidevano tutte le persone che portavano gli occhiali, cioè tutti gli intellettuali li hanno sterminati. Se uno aveva gli occhiali veniva immediatamente ucciso. Ed è curioso anche, un dettaglio che mi ha molto colpito, Primo Levi nel film di Rosie, La tregua, indossa un paio di occhiali, non avendo mai avuto bisogno degli occhiali, perché va identificato appunto come un pensatore, colui che pensa. Allora, questi personaggi che appartengono, diciamo, all'inizio di questa storia, rappresentano una presenza del corpo molto particolare. Entrano in scena dopo che è uscito il personaggio che vedremo fra poco, Benito Mussolini, e la corporeità si riduce a nulla, a quasi nulla. Noi non abbiamo mai visto delle foto a torso nudo di Palmiro Togliatti, non esistono, ancora meno foto di De Gasperi, ecco, al massimo. Non abbiamo foto in maglietta, non abbiamo foto mentre corrono, fanno jogging o fanno cose di questo genere. Ecco, sono appunto come dei professori. Eppure questi due, non condottieri, questi due topi di biblioteca, sono stati in effetti, diciamo, i protagonisti di uno scontro nel 1948. Uno scontro elettorale abbastanza importante per la nostra storia. Uno scrittore, Italo Calvino, ha scritto un testo nel 1974 dedicato a Togliatti e De Gasperi. Li descrive così, è molto interessante. Se l'autorità degli uomini politici è spesso un mistero, ma un mistero che non ispira nessuna suggestione, Togliatti portava con sé l'inquietante di sé segreto di come fosse fatta quella sua testa, per esprimere tanta imperturbabile calma, tanta ragevonezza esplicativa e circostanziata nel dire e tanta arte della costruzione sintattica del non dire o dello sfumare quel che diceva. O nel dire per via indiretta. E con la definizione che Calvino dà, subito dopo, è tanta assenza di nervi. Questa è una cosa che connota un po' questa generazione di politici. Assenza di nervi. Quindi il corpo è, come dire, non in tensione. Assenza di nervi anche quando manifestava impazienza e in sofferenza. Questa è la descrizione di Togliatti. Invece De Gasperi dice un'altra cosa. Naturalmente Calvino militava dalla parte del Partito Comunista, lo è stato iscritto fino al 1957, fino all'invasione dell'Ungheria. La sola cosa di cui posso testimoniare è di come quest'uomo, che sembrava impersonare ai nostri occhi la modestia di un'Italia provinciale, impiegatizia e parrocchiale, provinciale, impiegatizia e parrocchiale, apparisse lontano dalle aspettative di noi giovani che ci portavamo dietro la tensione apocalittica della Seconda Guerra Mondiale, come un destino a cui ci credevamo chiamati a dare un senso. Ecco, dopo la guerra appaiono questi personaggi e che hanno qualcosa appunto di molto poco fisico, di molto poco appariscente. Ecco, a proposito di occhiali, guardate questa è una foto veramente interessante, è una foto che il signore in questione non era ancora un politico, è una foto questa degli anni Ottanta, si era fatto fare da un fotografo e riproduce perfettamente una posa di Mitterrand, dove l'occhiale è un oggetto significativo, vedete come pensa, sta pensando, guarda lontano. Aveva già pensato di essere un politico, questa foto lo tradisce, ovviamente è anche un imprenditore che pensa, però gli occhiali, se è vero che gli occhiali sono appunto ciò che gli intellettuali, ma anche i capi di governo hanno, i Mitterrand li usava, hanno qualcosa di già in questo, questa foto indica già un atteggiamento, una posizione. Eccolo qua. In divisa della milizia, questo è il corpo che occupa la storia italiana dell'inizio del secolo, dopo la prima guerra mondiale. Non ho portato altre foto, ma insomma credo che un po' tutti ce le ricordiamo, foto a torso nuda, adesso ne vedremo una più avanti. Guardate la postura, interessantissimo, il pugno che concentra la forza, ma anche la riflessione, il gesto appoggiato appunto al fianco, che è un gesto anche di sfida. Ecco, questo è un condottiero, questi signori invece non sono dei condottieri. Perché? Perché l'assenza di fisicità in questi personaggi? Beh, perché ovviamente Mussolini col suo corpo ha occupato la storia italiana per vent'anni. Ecco la sua presenza, anche appunto le statue, le teste, insomma, le scritte, le fotografie, il cinema. Dove finisce tutto questo? Finisce ovviamente a Piazzale Loreto, no? Dove, in una sequenza di rovesciamento tipica proprio anche delle tradizioni rivoluzionarie, il corpo, Mussolini è già stato fucilato, ucciso, corpo tumefatto, viene impiccato a testa in giù in una scenografia sconcia appesa a un distributore di benzina. E questo è il rovesciamento esatto di quello che era stata la fisicità del leader nell'arco di quei vent'anni. Dunque, appena la storia si rimette in moto, i politici tendono a non mostrarsi, a non avere un corpo. Questo signore fa un'eccezione. E' un'eccezione perché Pietro Nenni ha una sua fisicità. Però la fisicità di Nenni, come si capirà molto bene anche da queste foto, sta tutta nel cappello, nel basco. Il basco è, appunto, come dice il nome, un copricapo di panno, sfornito di falda e di visiera e indossandolo mette in rilievo il volto, il viso. Ovviamente è un oggetto tipico della classe operaia. Il mio vicino di casa in campagna, che è un signore che ha 80 anni, lo indossa comunemente ancora oggi. Sformato, slavato, ormai ridotto quasi a un cencio, ma ogni volta che va nel campo a lavorare porta il basco. Ed è anche il basco che portavano, ovviamente, gli anarchici. Insomma, questa è una foto che avvicina quella precedente. Ecco, siamo poco dopo la guerra di Spagna. Gli anarchici portavano il basco e i partigiani, nella seconda guerra mondiale, il ricordo della lotta in Spagna contro i fascisti e i nazisti, portavano il basco. Ecco, il basco ovviamente, eccolo qua, vedete anche la differenza con Pertini. La pipa sarebbe un altro oggetto interessante su cui soffermarsi. C'è una famosa foto di André Cartes, dove sono fotografati gli occhiali di Le Corbusier con la pipa appoggiata sul tavolo. Ecco, anche la pipa, la riflessione, la meditazione, non è la velocità della sigaretta, il tiro. Ecco, anche questo sarebbe una storia, come dire, da fare della pipa da un lato e dall'altro della sigaretta. Pertini porta una coppola, mentre il basco, eccolo qua, di nuovo il basco. Guardate, stanno partendo per Mosca, stanno andando alla funerale di Stalin, ci vanno in treno, immaginate quanto tempo metteranno per arrivare a Mosca, e Palmiro, Togliatti, con la sua cravatta, sono tutti e due con la cravatta, ma guardate la differenza tra i due personaggi. Ecco, ovviamente c'è un altro basco molto famoso che ormai conosciamo. Questa è una foto scontornata perché non è la foto originaria da cui è stata, diciamo, tratta questa immagine, è il più famoso basco oggi in circolazione. Bene, anche Nenni è un personaggio che entra nella storia letteraria italiana. C'è una poesia di Pasolini, se ne leggo soltanto un piccolo frammento, in appendice alla religione del mio tempo, che era stata pubblicata sull'Avanti. Si chiama proprio Nenni, raccolta nelle poesie, nel volume dei meridiani, delle poesie di Pasolini. Pasolini aveva proprio un affetto per Nenni, molto forte, perché Nenni vedeva che cosa? Vedete probabilmente appunto il basco, la classe operaia. Infatti nella poesia lo dice, con che amore io vedo lei, acerbo, gli occhiali e il basco di intellettuale, e quella faccia casalinga e romagnola in fotografie, che a volerle allineare farebbero la più vera storia d'Italia, la sola. Ecco, anche questa è una cosa che forse bisognerebbe rifare, questa storia d'Italia, la vera storia d'Italia fatta attraverso queste fotografie. Questa è una poesia del 61, siamo all'apertura del centro-sinistra, addirittura Pasolini dice in questo, al finale della poesia, poesia è ora che io smetta di stare da parte, insomma di oppormi, bisogna partecipare ed essere presenti. Facciamo un piccolo escursus, un piccolo escursus su che cosa? Sui microfoni, la fisicità dei politici si esprime attraverso l'uso del microfono. L'oratore tradizionale, diciamo nell'età pre-elettrica, non aveva il microfono. I comizi si facevano nelle grandi piazze, la voce del comiziante, del politico, veniva trasmessa, le parole, le veniva trasmesse dalle prime file alle seconde file, per cui si parlava, poi si facevano delle lunghe pause in modo che la gente che stava in fondo potesse udire attraverso la ripetizione della frase. E la cosa importante era, e lo si vede poi in Mussolini, qui io non ho portato dei filmati, il fatto che Mussolini parlava gesticolando, con molti gesti, e questi gesti erano necessari perché la gente che stava lontano doveva vedere, anche se non sentiva l'oratore, attraverso questa gestualità molto accentuata. Oggi lo sappiamo, è stato ripetuto spesso, che vedere i filmati in cui Mussolini parla, si mette in queste posizioni, agita il braccio, mostra il viso, la mascella, eccetera, appare a noi ridicolo. La verità è che Mussolini si era formato, dal punto di vista espositivo, in un'epoca pre-elettrica. Qui invece siamo già in un'epoca elettrica, vedete i microfoni che sono con lo stelo, che sono davanti al Cide De Gasperi, De Gasperi non compiva dei grandi gesti, questo è uno dei gesti massimi, insomma, la mano alzata che è tipica, insomma c'è tutta una storia lunga, insomma, che viene dagli imperatori romani, dalla mano alzata, eccetera. Bene, l'amplificazione cambia tutto, modifica anche lo stile oratorio, la gestualità, e quindi anche la corporeità dei leader. L'amplificazione ovviamente è stata importante, per esempio, per un leader politico come Adolf Hitler, Adolf Hitler in cui la voce è tutto, la voce è tutto, è il leader anche della radiofonia, della radio. Ecco, a noi sono arrivati anche dei filmati, ma effettivamente, insomma, per chi conosce il tedesco, Carl Gustav Jung l'aveva raccontato molto bene, era qualcosa di particolare la voce penetrante di Hitler, ed era la voce legata al microfono. Poi ci sarebbe a fare una storia, insomma, lo stelo, il microfono con il filo, il gelato, ecco. Ci sono delle foto interessanti, adesso qui non la portate, per esempio, di Silvio Berlusconi, che usa il microfono come un presentatore, quindi appartiene a quell'epoca, l'epoca sinatra, ecco, possiamo chiamarla così, in cui appunto è il cantante, diventa lo stilema, insomma, lo stile tipico dell'oratore. Oggi dove sta il politico? Qual è la corporeità del politico? Beh, quella di colui che sta seduto in un tall show, usa esattamente quel tipo di microfono che sto usando io, ecco, pur stando in piedi per esporre questa cosa, è seduto, quindi è una fisicità ridotta, trasformata. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ecco. Ci sono delle eccezioni, adesso qui non ho messo altre foto, ma insomma Berlusconi, ad esempio, appunto, è il presentatore, l'intrattenitore, il barzellettiere, l'altro personaggio interessante nell'uso del microfono, quindi mostra una corporeità molto forte, è Bossi. Umberto Bossi appartiene a un'epoca appunto post-sinatra, cioè l'epoca in cui stringe il microfono, lo avvicina e ha un rapporto quasi fisico esattamente come un cantante, no? Sono i cantanti che fanno questi gesti, stringono il microfono, quasi lo indossano, insomma, è quasi un oggetto, potremmo dire, sessuale, insomma, c'è un rapporto fisico con il microfono stesso, no? Cerca di modulare la voce, Bossi. Infatti la voce è molto importante, è stata molto importante nella fonia di Bossi, infatti, diciamo, la perdita della voce dopo, insomma, dopo la malattia che l'ho colpito, oltre a una mancanza di fisicità complessiva dell'uomo, insomma, si è molto modificata la sua figura fisica, la perdita di questa voce rauca, cavernosa, era molto importante ed era parte del suo prestigio, della sua capacità, appunto, come dice Calvino, è un mistero come mai un leader riesca, però c'è una fisicità della voce di Bossi, è una voce che esprime insieme un'aggressività, ma al tempo stesso anche rassicura, e sembrava, appunto, per chi l'ha sentito anche dal vivo, insomma, non solo nelle registrazioni, toccare proprio delle corde segrete, era molto, molto importante. C'è uno studioso, un letterato, che si chiama Stephen Comer, che ha studiato il fenomeno del ventriloco, è un fenomeno molto interessante, e che ha scritto una cosa, una frase che mi sono trascritto, che trovo, come dire, chiarificatrice, una voce non è solo una condizione, neppure un attributo, ma è un evento. Ecco, la fisicità sta anche nell'aspetto della voce. L'atto di parlare, e questo studioso lo prende da Merleau-Ponty, è un atto corporale. La parola, dice, Merleau-Ponty è un gesto. Ecco, non è solo il gesto che lo accompagna, ma è proprio anche questa della voce. Eccolo qua, l'altro personaggio importante della nostra storia, lo vedremo, diciamo, intervallato, ecco, da un altro signore. Il cappotto di Moro. Ecco, questa qua è la cosa che mi colpisce di più. Questa è una foto degli anni 50. Tra l'altro, curioso, appunto, sembra quasi un parente quello che c'è dietro, invece è un usciere di Montecitorio, probabilmente. Con lui c'è un vero giro di boa. Adesso lo vedremo come avviene questo giro di boa. Ma, prima di entrare in questo, prendo un brano da Luciano Bianciardi. Luciano Bianciardi è uno scrittore che è stato abbastanza dimenticato. Per fortuna, pochi anni fa, è uscito un volume straordinario che sono raccolte di tutti i suoi articoli. Bianciardi è stato uno di quelli che hanno inventato la critica televisiva e descriveva delle cose straordinarie con un'attenzione. Lo faceva su giornali assolutamente laterali, poco importanti, addirittura un giornale così soft porn come era ABC. E ha scritto un pezzo, direi, molto bello dedicato a Moro, si chiama Lo stile moresco ed è un pezzo degli anni 60. Tratto appunto dalle sue coloniche televisive. Il personaggio non è mai telegenico. Guardandolo, indovini subito una struttura ossea estesa ma gracile, su cui la corpulenza si è accumulata nel corso delle generazioni, use a cibarsi cime di rapa, fave, ricchitelle, alla domenica. Qualche avaro sgocciolio d'olio con sopra quel vino denso che tinge persino l'alluminio della gavetta. La frezza bianca al centro della testa, che tanto si presta alle frecciate dei suoi avversari, va dilagando in una più generale e anonima canizia. Il viso sembra lievitare sotto la spinta dei dubbi, dei distinguo, delle sorde lotte con le parole, con i concetti. Ovviamente Moro è, sono le sue frasi, i suoi discorsi e alla fine di questo brano Dianciardi lo prende in giro, insomma, citando una frase di Moro abbastanza paradossale. Moro va accoppiato, insomma, in questa piccola storia corporale dei gesti e degli abiti, il cappotto ovviamente, ha un altro personaggio importante che segna la corporeità italiana del dopoguerra, che è Pierpaolo Pasolini. Pasolini si è occupato varie morte di Moro e lo ha descritto, soprattutto dal punto di vista linguistico. Per Pasolini Moro era un punto di riferimento molto importante nel cambiamento del linguaggio. Ecco, già negli anni Sessanta si è aperto un dibattito grazie a un articolo pubblicato su rinascita di Pasolini intorno all'elocchio tecnologico, tecnocratico. Ecco, era un discorso che Moro aveva fatto all'inaugurazione all'apertura dell'autostrada del Sole. Riesce a parlare, questo invece è tratto da un testo inedito che è stato pubblicato nei Meridiani, si chiama Contro la televisione, un testo di Pasolini del Sessanta-Sei, quasi contemporaneo, quindi è quello di Dianciardi. Riesce a parlare per minuti e minuti senza il minimo imbarazzo o il minimo accento umano, senza dire nulla, se non il dire, ossia una globale e in forma e tendenza a dire qualcosa il cui succo rimane nella testa dello spettatore come una verità post-altrove e guidatrice verso altrove. Bene, il corpo di Moro è veramente il punto di passaggio, quello che cambia, ecco, è ovviamente anche stato nella nostra storia repubblicana il più importante uomo politico. Moro dice, Pasolini, Moro insieme a Nenni sono coloro che hanno avviato l'Italia sulla strada del laburismo, l'Italia della sozza eredità fascista, scrive così Pasolini, però l'ha fatto a patto di tacerlo, di non dirlo, ecco, questa è la critica sostanziale che Pasolini fa a Moro, ma nel famoso articolo dedicato appunto alle lucciole dice che Moro per un'enigmatica correlazione colui che appare il meno implicato di tutti, Moro, il meno implicato nelle cose orribili organizzate dal 1969. Facciamo un passo avanti dal cappotto da questa fisicità non fisica, io mi ricordo, non l'ho mai più trovata, ma una foto di Moro durante un giugno, un luglio che leggeva il giornale in spiaggia completamente vestito, seduto sull'asdraio. Questa era, diciamo, l'immagine di questo politico silenzioso, incomprensibile, non dotato di nessuna fisicità, ma che cambia le cose. Questo è Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista al 1972, al 1984 in cui More in un comizio, durante un comizio, con lui siamo e già anche con Moro siamo già nel ventesimo secolo, sono uomini nati nei primi due decenni del ventesimo secolo. I corpi si vedono praticamente solo in piazza, o nei comizi o nel caso di Berlinguer nelle sezioni, ovviamente qualcuno di voi l'ha conosciuto, l'ha incontrato, l'ha visto da vicino. È un corpo stranissimo quello del segretario del PC. C'è un testo di Mario Soldati pubblicato su La Stampa, anche questo è un testo degli anni 70 che descrive la fisicità di Berlinguer. Dal primo istante Berlinguer mi apparve familiare, toccante, struggente, l'ha visto in televisione. Ancora una volta lì c'è la distanza, la televisione ha istituito una distanza che ovviamente nel comizio pubblico non c'era. Mi appare familiare, toccante, struggente, col suo visino cesellato e smunto, col suo pallore, con le sue membra ossute e sciolte, un intellettuale puro. Ecco ancora l'intellettuale che torna. Uno studioso divorato dalla passione politica e formato alla scaltrezza politica negli anni tragici del finale fascismo e della guerra. E qui viene la definizione. Un adolescente invecchiato o piuttosto rimasto fermo per un prodigio alla propria adolescenza. questa è una cosa molto interessante. Qui non ho portato l'immagine ma forse tutti la ricorderete di Benigni che lo solleva, lo prende in braccio e che cosa ci racconta questo fatto di Benigni che lo prende in braccio? cioè è un bambino. È quasi un bambino. Il corpo del segretario del PC è simile in questa foto. Questa è una foto di Luigi Giri, uno dei maggiori fotografi italiani. È l'ultimo comizio al festival di Reggio Emilia nel 1983 e Giri ha interpretato perfettamente quello che era il rapporto tra il segretario del partito e le masse del partito. Guardate là in fondo. Tanto non si vede ma c'è proprio uno spazio esattamente quasi come questo cinema è lunga la distanza tra la prima fila della transenna dove ci sono i militanti comunisti con le bandiere mentre i notabili del partito siedono su delle sedie poste sui lati insomma come ancora siamo ai tempi diciamo nella prossemica del Pcus ecco non ci sono le gravinate come sulla piazza rossa. Questa è la solitudine di Berlinguer ecco e che uomo è? È un uomo solo è un uomo solo alla cui fisicità quasi non esiste appunto è l'adolescente il bambino è molto interessante questa cosa. Eccolo qua torniamo al punto che mi interessa insomma Moro non ha fisicità non ce l'ha gli viene restituita di colpo improvvisamente ovviamente è il suo sequestro il sequestro effettuato dalle brigate rosse tutti noi ricordiamo queste fotografie ne ho messo una sola ma insomma sapete che sono due polaroide che hanno scattato nella prigione del popolo facendogli il processo gli ha restituito una fisicità che non aveva purtroppo Pasolini è morto tre anni prima nel 75 i due corpi il corpo di Pasolini e il corpo di Moro sono i due grandi corpi che occupano la storia italiana degli anni 70 sono anche dei corpi insepolti voi sapete che su Pasolini si continua a parlare chi l'ha ucciso ed è interessante anche questo fatto che è un corpo che viene mostrato sull'espresso a colori il cadavere vengono fatte delle fotografie scioccanti di questo corpo come fatto su cui è passata la macchina di Pasolini stessa guidata da Pelosi è ancora un enigma è ancora un problema aperto ma insomma questo corpo non è stato sepulto e neanche su Moro non è stato ancora ha sepolto questo corpo se ne torna continuamente a parlare ma chi l'ha rapinto cosa hanno fatto le Brigate Rosse chi li ha mandati una cosa le Brigate Rosse hanno sicuramente fatto lo hanno trasformato in un corpo fisico è un uomo le lettere di Moro del terzo delle Brigate Rosse sono uno dei testi più importanti della storia italiana degli ultimi 50 anni e probabilmente questa è una cosa interessante andrebbero lette insieme e in parallelo con altre lettere che sono le lettere di Don Milani che scrive agli allievi scrive alla madre sono due personaggi come dire agli antipodi anche all'interno del cattolicismo italiano anche la fisicità di Don Milani è una fisicità poco appariscente un uomo che è morto di tumore che ha sofferto terribilmente noi ricordiamo le foto alcune foto fatte di la Barbiana insomma in cui si vede questa tonaca nea cioè il corpo del prete non c'è è tutta una voce tutta una scrittura è anche in moro eppure sono due presenze così forti eccolo lì questa è l'altra foto terribile che è stata scattata sequestro 16 marzo 1978 9 maggio 1978 è il cappotto ancora nell'auto è avvolto nel suo cappotto esattamente quel cappotto diciamo in termini simbolici non sarà lo stesso l'avrà cambiato ma chissà De Gasperi era andato in America per chiedere i soldi del piano Marshall agli americani e si era fatto prestare il cappotto i democristiani nei primi decenni del loro potere rivoltavano il cappotto come si usava una volta dall'altra parte per sfruttarlo è ancora avvolto in un cappotto anche questa foto gli ha restituito una fisicità è stato uno shock vedere Aldo Moro dentro l'R4 anche qui la cosa interessante l'R4 è un simbolo di giovinezza è qualcosa come dire di leggero era la macchina insieme insieme alla due cavalli insomma era la macchina dei ragazzi la macchina dei giovani l'R4 così come la macchina di Pasolini invece è una alfetta una GT una macchina veloce sono due macchine che segnano un po' quell'epoca e la macchina è anche un corpo è anche l'armatura che riveste le persone qui ho un testo non lo leggerò tutto perché il tempo corre ma è un testo molto interessante di Mario Luzzi che sta in un libro che si chiama Per il battesimo dei nostri frammenti leggo soltanto qualche verso in effetti non è neanche troppo lungo ha cianvellato in quella sconcia stiva crivellato da quei colpi è lui il capo di cinque governi punto fisso o stratega di almeno dieci altri la mente fina il maestro sottile di metodica pazienza esempio vero di essa anche spiritualmente lui come negarlo quella bruciato sacco di già oscura carne fuori da ogni possibile rispondenza col suo passato ecco il sacco abbiusciato di quella carne questa è la fisicità che entra di colpo entra in negativo ovviamente eccolo qua un altro personaggio interessante di quegli anni anche lui ci porta dentro una fisicità cosa è successo? c'è stato il 68 questa è una trasmissione televisiva la foto è del 18 maggio 1978 intervenendo a tribuna politica sta per 25 minuti in silenzio voi sapete il silenzio in televisione è insopportabile più di un minuto un minuto e mezzo 25 minuti cosa sta facendo Pannella? protesta perché la Rai non ha parlato dei referendum due referendum uno dei tanti referendum non è più importante ovviamente quello sull'ordine pubblico e il finanziamento ai partiti e sta 25 minuti così io ho tratto questa foto che non è facile da trovare o è riprodotta male da un libro molto bello da cui ho preso alcune riflessioni che poi ho inserito in questo discorso in vari contesti di Gabriele Pedullà Gabriele Pedullà ha raccolto è un giovane letterato insomma critico letterario storico della letteratura ha raccolto i discorsi dei politici italiani da Cavour fino a Berlusconi discorsi parlamentari prevalentemente molto interessante anche tutto il ragionamento che c'è in questo libro ve lo consiglio perché veramente è un testo straordinario quest'anno penso che farò il corso all'università proprio con questo libro per riflettere sulla stile letterario dei nostri dei nostri politici la pagina dedicata a Pannella non c'è niente di scritto c'è questa foto uno gira e trova questa foto non c'è un discorso di Pannella l'ultimo discorso è la discesa in campo di Berlusconi quella famosa d'Arcore nel 94 poi dice giustamente Pedullà è inutile andare avanti dopo dovrebbe allegare un DVD o un album di fotografie perché i discorsi non contano più nulla si passa in un'altra fisicità in un altro aspetto in un altro aspetto bene cosa è successo il 68 il 68 ha posto al centro di tutto il corpo il corpo in primo piano il privato è politico la fine separazione tra il privato e il politico la fisicità ecco quindi la televisione è diventata anche il luogo dove i corpi appaiono sempre di più la la tecnica eterodossa insomma inventiva di pannella che forse prende anche cose diciamo soprattutto dall'arte penso alcune cose sono passate diciamo dalla body art a sua volta probabilmente dall'avanguardia novecentesca insomma che hanno inventato molti modi della comunicazione il digiune e il corpo che si assottiglia il digiuno il corpo non si era mai visto erano i santi che digiunavano erano i religiosi che digiunavano i musulmani digiunano durante il ramadan ma non i politici ecco e introduce questa cosa questa cosa che poi è stata fatta propria ecco adesso qui torniamo al signore di prima è stata fatta proprio anche dalla Lega soprattutto da Bossi molte cose del 68 e anche di pannella naturalmente non l'ideologia non i contenuti ma degli stilemi comportamento fisico sono trapassati eccolo qua questo signore che l'ho messo lì di nuovo insomma è inutile fare i discorsi sulla fisicità tra l'altro questa è una cosa interessante Ruggero Pirantoni forse ci potrebbe spiegare bene la testa grande e il corpo piccolo se guardate la sproporzione tra la dimensione e la testa il mascellone e invece la dimensione del torace che è molto piccolo ecco non so se è la foto che lo deforma ma è abbastanza interessante questa è la fisicità eccolo qua l'altro signore che discende da quello precedente se Moro compare nonostante lui trasformato in un corpo acciambellato dentro l'R4 foteraffato dalle Brigate Rosse le due Polaroid che curiosamente per lunghi anni nessuno ha mai considerato come un messaggio che andava letto il significato delle Polaroid scattate dai brigatisti è un messaggio pubblicitario proprio I want to you io ti voglio venite arruolatevi guardate cosa abbiamo fatto dell'uomo più potente d'Italia dove l'abbiamo messo nel carcere del popolo questo è il signore che riporta la fisicità riporta la fisicità è una fisicità ancora artigianale è il primo uomo politico dopo Mussolini che ha un fotografo personale che lo segue dappertutto si chiama Umberto Cicconi ecco questo Umberto Cicconi gli ha fatto questa foto lo fate io lo fate male con un iphone non si trovano in circolazione facilmente sono coperte da un copyright forse dovrei pagare per farle vedere oggi qua fa le foto sulle spiagge probabilmente Amamette o qualcosa altro del genere questa è una foto sconvolgente interessante Amamette ad inverno una foto di Cicconi non si è quasi mai vista c'è l'arcobaleno non è più il sole dell'avvenire è diventato che cosa? il garofano questa è una foto di Giuseppe Pino molto famosa anche su questa ci potremmo fermare mezz'ora insomma su questa postura la scelta lui gliel'ha imposta al fotografo molto interessante le mani dietro la schiena e la nonazione e la riflessione è un momento di rilassato il garofano anche se questo discorso di simboli politici sarebbe molto interessante dal pugno chiuso Togliatti non c'è nessuna fotografia in cui Togliatti è col pugno chiuso mai in realtà il pugno chiuso è stato stabilito come un gesto comunista soltanto negli anni 20 dal partito comunista tedesco così invece abbiamo i gesti di Adolf Hitler naturalmente copiati ripresi dal saluto romano di Mussolini in modo molto intelligente Lottega e Gasset dice in un suo testo che i gesti politici così come appaiono così velocemente scompaiono il garofano non c'è più è curioso che quello che è diventato il simbolo politico sta dalla parte dietro vicino alle natiche alla parte posteriore messo lì così è curioso io credo che il modello sia anche un modello della fotografia di moda ecco che ha un po' ispirato questa posizione eccolo qua era il segretario del partito e una fotografia scattata credo che sia in Portogallo a Lisbona salta come un portoghese per prendere il tassino salta la fila così mi sono immaginato ma magari no insomma comunque era una foto che circolavano eccolo qua rieccolo beh insomma è evidente che allora con Moro il corpo torna in scena grazie ai brigatisti avrebbe preferito ha preferito di nuovo voi conoscete io non sono più riuscito a trovarla ma c'era una famosa disegno di vincino che era prima di essere il disegnatore del foglio lo era di lotta continua e aveva fatto una vignetta per lotta continua che il direttore della lotta continua non ha poi messo sul giornale si vedeva appunto quella foto di Moro famosa con la camicia aperta si intravedeva la canottiera e dice scusate è solitamente vesto marzotto ed era una foto scusate un disegno abbastanza impressionante però dava il senso di quell'aspetto diciamo della comunicazione dei brigatisti cioè i brigatisti volevano era un manifesto pubblicitario il loro per l'arruolamento il corpo è tornato in scena in modo artigianale con con Bettino Craxi è tornato invece qui in scena in modo professionale non sto a dilungarmi molto anche poi ci ho scritto un libro sopra su queste cose ma guardatelo qua guardate il passo incredibile passo è una pin up è il passo di danza io ci ho visto insomma qualcosa di femminile queste sono delle fotografie che gli ha fatto Giorgio Lotti che è stato uno dei suoi fotografi personali la storia dei fotografi di Berlusconi sono veramente interessanti e straordinarie perché già dagli anni settanta adesso ne vedremo delle altre sono tutte foto ufficiali queste di Berlusconi che vi mostro non sono foto rubate sono foto che lui faceva fare ai suoi fotografi chiamava ad Arcore queste persone il sabato e la domenica le teneva lì e si faceva fotografare già negli anni settanta aveva costruito un album italiano insomma un album personale ed era l'unico l'unico industriale insomma imprenditore aziende edilizie come sappiamo Milano 2 che dava ai giornali le proprie fotografie esattamente come faceva come faceva Craxi con il suo fotografo aveva tanti fotografi ha costruito proprio un album più di vent'anni prima ha cominciato ecco io ho trovato addirittura delle foto della fine degli anni sessanta che aveva dato all'espresso è una foto che non sono riuscito ad identificare con certezza non è mai stata pubblicata ma l'aveva distribuita eccolo qua passo di danza è una pin up che sia un attore o un'attrice lo dice questa foto questo è il camerino sta preparando il discorso della riscesa in campo del 94 foto di Lotti naturalmente è una foto vedete col fotografo che si fotografa il modello è una famosa foto di Ugo Mulas che poi è stata ripresa da vari artisti insomma la sciarpa bianca Isadora Duncan guardate le scarpe la postura il trucco insomma sono molti molti dettagli che poi lo portano lì ecco questa è proprio la sera della vittoria quando nel 94 ha vinto è ammiccante c'è qualcosa di un gesto di civetteria ecco qualcosa che sottilmente insomma di natura sessuale ecco se se il gesto mussoliniano possiamo dire così è fallico come poi Gadda insomma ha visto molto bene in Berlusconi invece l'elemento è la transessualità non in senso anatomico ovviamente ma in senso culturale ecco maschile e femminile il trans poi siamo in un'epoca in transpolitica transcultura e la corporeità diventa un elemento significativo ovviamente adesso qui si poteva fare lunghi discorsi sulla storia di Silvio ma insomma me la cavo con una citazione di Simmel che mi sembra abbastanza straordinaria che è un po' credo il manifesto politico positivo e negativo perché ovviamente tutti questi personaggi contengono anche un elemento positivo non c'è solo un elemento negativo insomma il mio compito è di raccontare queste cose e cercarle di capirle non come dire di buttare una sorta di damnazio memoria o un gesto negativo su questo è interessante capire queste cose questi messaggi Ann Arendt aveva perfettamente ragione ecco c'è questo aspetto dell'apparire ci hanno spiegato che l'apparire no è una cosa brutta invece no è il modo con cui noi siamo al mondo siamo attori ciascuno di noi certo poi la relazione è abbastanza complessa ecco in questo caso la frase di Simmel dice così che è la definizione anche della civetteria la felicità promessa anticipa già una parte di quella raggiunta ecco e così ci ha promesso tante cose che hanno anticipato quella raggiunta anche se non l'abbiamo mai raggiunta insomma è il corpo il corpo postmoderno ecco il corpo di Berlusconi dall'immagine del potere se torniamo a Palmiero Togliatti e al Cidere Gasperi è scomparso anche nella fisicità dei leader ogni intento pedagogico anche Mussolini c'era qual era l'intento pedagogico prevalente di Mussolini rendere fascista il paese attraverso il proprio corpo quindi la diffusione di questo corpo come diventava il corpo significativo in questo se vi rivedete i pezzi in cui si vedono le parate fasciste nel film di Fellini nel geniale film di Fellini a Marcord vedete come ha fascistizzato il paese ecco l'ha reso proprio simile a lui nella prima repubblica i professori ecco i professori i topi di biblioteca che abbiamo visto all'inizio è l'alfabeto democratico insegnare all'italiano l'alfabeto democratico lo scopo qui è invece dello spettacolo che corrisponde diciamo così alla privatizzazione della politica facciamo un piccolo giro e questo è interessante beh questo è Alain Delon non è proprio Al Capone è Alain Delon sono due fotografie sono due fotografie molto note fatte da Evaristo Fusar nel 1980 i marsigliesi il film Borsolino del 70 c'è anche Rodolfo Valentino è una simpatica canaglia simpatica canaglia è uno simolo che sta molto bene questa è un'altra foto secondo me altrettanto straordinaria su cui ci si potrebbe ancora soffermare insomma sui gesto questo è il maschilismo galante italiano fate la mano sulla spalla i due sguardi questo quasi perso nel vuoto insomma la bellezza femminile questa è la prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio scomparse ma presente scomparsa diciamo così dalla scena mediatica guardatevi lo sguardo intenso di Silvio lo sguardo forte ecco è la politica dell'intimità di cui Berlusconi è veramente un maestro è stato un maestro testa leggermente ruotata all'indietro insomma sono tanti dettagli che potrebbero funzionare e anche questa è un'altra meravigliosa da sempre due messaggi uno apposta all'altro anche qui diciamo per dirla alla Roland Barthes cioè il puntum le cose che ci pungono che ci colpiscono qui è lo sguardo ovviamente così ammiccante malandrino in diagonale e insieme a questo le mani che sono esattamente l'opposto cioè le mani danno un senso così di di sicurezza appoggiate proprio come come un capo però convivono esattamente questi due gesti nessuna delle fotografie che io ho visto degli album insomma comunisti e democristiani possiedono mai comunicazioni di questa natura ambigua ambivalente differente eccetera i capelli beh questo anche qui dovrebbe fare un escurso rubo a Calvino una cosa molto bella molto interessante Calvino ha scritto un testo sui capelli del duce facendo una storia un'autobiografia del fascismo Calvino ovviamente è stato educato al fascismo poi è diventato comunista insomma ha combattuto nella resistenza molto giovane Calvino ha fatto questo esercizio a memoria senza neanche nessuna immagine ricordando così ha scritto questo articolo che è uscito poi sulla Repubblica e enuncia a un certo punto una teoria molto interessante sui capelli sulla lunghezza dei capelli allora il risorgimento Mazzini Garibaldi barbe e capelli lunghi Mussolini è il genio della testa calva quando comincia a perdere i capelli si rade e il testone poi anche come è stato raffigurato dagli artisti è appunto questo della testa calva l'Italia seguente è l'Italia dal barbiere il barbiere è un personaggio di Montecitorio da cui i democristiani hanno sempre il capello ben tagliato corto gli anni 80 e 90 sono gli anni delle teste calve di Marini tutti i personaggi di Pubblica Italia molti di personaggi forse non tutti insomma sono rasati pure Silvio Berlusconi ha i capelli lunghi ci tiene moltissimo i capelli come sapete insomma c'è tutto un discorso anche abbastanza interessante è un uomo degli anni 60 al massimo si spinge fino agli anni 70 vedete com'è qui prima di mettere mano ecco quest'estate poi è uscito un articolo su oggi dove raccontava qual è tutta la tecnica con cui Berlusconi ha costruito questa sorta di moquette sulla testa dove i capelli non ci sono ma grazie a una serie di lacche successive si crea questo strato sarebbe interessante mettere insieme anche qui Calvino con Pasolini perché il primo testo che apre gli scritti corsari di Pasolini è Contro i capelli lunghi che è un testo importantissimo pubblicato poi precedenza sul Corriere della Sera dove Pasolini enuncia la sua opposizione ai capelloni e dove parla delle belle nuche dei ragazzi dove questa sessualizzazione dei capelli ma insomma sarebbe un lungo discorso su tutto questo il tempo corre eccolo qua eccolo qua la canottiera vabbè anche su questo cercherò un po' di andare veloce di glissare insomma la canottiera siamo noi è il popolo è il popolo ecco 1994 Costa Smeralda il miliardario Berlusconi poi si separeranno ci calderà il governo e invece si mostra così ai cronisti venuti a intervistarlo il popolo siamo noi anche qui la fisicità c'è è bar sport è la polisportiva è la parrocchia se vogliamo in un certo senso sono i vitelloni questo signore è un vitellone e guardate queste sono delle altre canottiere le faccio vedere velocemente torniamo ancora a quel modello ecco questo è ovviamente il film di Visconti ossessione 1943 l'elemento macio si arriva fino a Corona ovviamente si arriva a Dolce Gabbana ecco la canottiera è un oggetto molto interessante che racconta molto della nostra storia quando ho fatto vedere queste cose negli Stati Uniti hanno detto beh certo la canottiera è l'Italia gli italiani hanno la canottiera non è vero Marlon Brando è la canottiera insomma anche qui è chiaro Marlon Brando è il maschio la fisicità ecco ed eccolo qua l'ultima canottiera del signore la canottiera batte la distanza tra i politici e il popolo questo è il senso del messaggio fisico di Bossi che è durato finché è durato ma che in cui la fisicità ha avuto un valore incredibile incredibile insieme alla voce le posture i gesti gli ultimi gesti che noi conosciamo insomma anche qui si potrebbe fare un escursus che non ho fatto sull'americanizzazione dei gesti batti 5 insomma tutti i gesti dei leghisti americanizzazione ma insieme anche qualcosa di molto italiano riporta indietro appunto il popolo Mussolini non è un caso che si potrebbe fare anche una storia delle canottiere nei film di Visconti non è un caso Visconti omosessuali e quindi segnala questo elemento di fisicità legato alla sessualità certo il leader ha a che fare con la sessualità con il messaggio inconscio criptico sotterraneo che appare è quello ma insomma andiamo veloci eccoci qua ho un'altra canottiera questa è la canottiera finale vedete addirittura le scarpe da tennis tagliate perché stava stava degenerando il suo il suo corpo vai solo un piccolo dettaglio questa è una foto molto bella volevo farvela vedere è una foto importante provate a indovinare quanti anni ha e ha 50 anni è del 1991 è una foto di un grande fotografo italiano Shanna Shanna è stato mandato da un giornale inglese il senatore è stato è diventato non tanto è andato a Varese alla sede della 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 Lega poi gli ha chiesto di andare in giro e di fare un po' di fotografie io trovo quando ho visto questa fotografia ho pensato ecco c'è tutto ha capito tutto guardate la trovo meravigliosa a parte c'era il discorso sull'impermeabile insomma anche anche l'impermeabile è un altro oggetto il tenente Colombo no? per lungo tempo l'impermeabile è stato il diciamo il capo attraverso cui si mostrava Bossi o addosso o appoggiato naturalmente il trencio appoggiato sul braccio poi anche le cravate soprattutto le giacche ecco ho raccolto per scrivere questo libretto sulla canottiera di Bossi ho raccolto tutte le fotografie che c'erano e ho classificato le giacche e ho visto c'erano pochissime all'inizio erano sempre le stesse che si ripetevano per due o tre anni insomma cos'è interessante questa fotografia? a parte che diciamo Shanna è un fotografo siciliano insomma là in fondo sembrano appunto tre signore siciliane vestite di nero sta pensando anche questa io non so se Shanna ha fatto le foto così velocemente ne ha pubblicate pochissime non le ha mai stampate sono andato nel suo studio perché ho trovato questa foto all'archivio della stampa e dietro c'è il timbo del fotografo ho detto eccetera qua la foto sta pensando guarda il gesto sospeso cosa pensa? io mi sono immaginato cosa ha pensato Bossi è un gesto di sospensione ha pensato ecco i vitelloni in Parlamento sembra impossibile 1991 nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduto e invece è accaduto forse sta pensando a quello chissà eccolo qua siamo ai giorni nostri finalmente siamo tornati dove? ai cappotti siamo tornati ai democristiani è il ritorno dei democristiani ma chissà allora beh la sciarpa azzurra il cappotto è azzurro non è verde come ce l'ho anch'io è l'Oden si chiama l'Oden anche qui ha una sua storia ecco un simbolo della borghesia milanese tanto è curioso perché in realtà diciamo nella buona borghesia milanese compresi i rampolli nell'armadio c'erano due appendi abiti su uno era appoggiato l'Oden ed sull'altro l'eschimo e secondo le situazioni la buona borghesia milanese i figli di rampolli insomma potevano essere in piazza con il movimento studentesco diventato poi MLS indossando l'eschimo ma poi coi propri pari magari anche fascisti perché fino a un certo punto diciamo fino alle bombe di piazza fontana i rampolli ma non solo insomma la destra e la sinistra nelle scuole e anche nelle feste soprattutto si frequentavano ugualmente poi piazza fontana crea una rottura una spaccatura completa ascendenza austro-ungarica non esprime nessuna nostalgia per la mitte all'Europa è invece una sobria mimetica eleganza congiunta congiunta ovviamente alla comodità chi è all'Oden lo sa che è molto comodo bene siamo tornati ai cappotti non lo so vediamo un po' di queste immagini di questi signori il super ministro dell'economia ex banchiere Corrado Passera la grisaglia cioè siamo tornati appunto all'abito qui la cosa interessante purtroppo non si vede bene sono le scarpe e le calze sono le calze i democristiani portavano le calze corte sono le foto si vedono qui si alza appunto il calzone si vede la calza corta questo signore invece porta delle calze lunghe all'inglese qualcosa che è un modello che viene altrove è un travé un impiegato di concetto cashmere è tutto cashmere giacche calzoni costoso tessuto l'uomo in grigio compassato meditabonda tratti malinconico vedete come tiene la testa anche questa sarebbe un'altra storia da fare le cose che sto voglio dire le ho rubate a un amico che mi ha aiutato a decifrare perché io non me ne intendo così tanto di di tessuti e vestiti piccola di statura il ministro del lavoro e il saforo nero porta giacche corte proporzionate e manifesta una preferenza per Chanel o marche simili nell'uso dei tessuti a rilievo è la professoressa di greco e di latino di mia figlia al liceo classico di Monza è identica perfetta io quando l'ho vista a Fornero non la conoscevo non frequentavo i consigli di amministrazione o l'università di Torino ho detto no la professoressa di Giulia è diventata ministro è così è così ecco il tocco come giustamente mi è stato suggerito sta nel fulano è il tocco di vita ecco sono dei toglier vagamente maschili è un'eleganza borghese piemontese un pelo sottotono né originale né sofisticata e neppure moderna eccola qua Anna Maria Cancellieri abiti sobri scuri gonne lunghe sotto il ginocchio come certe zie ci vorrebbe Arbasino per raccontare di queste cose le zie eleganti doppio e triplo giro di perle spilla d'oro sulla giacca la zia Marisa probabile cliente di un brand famoso che appunto si chiama Marina Rinaldi taglie forti solidità pacata volontà rocciosa rassicurante e moderata è come un'anziana vicina di casa elegante magari in pensione in effetti la cancelleria è in pensione vedova che si sveglia per prima e si sente subito sulle scale al mattino chissà dove va è in pensione ma è già lavorare altra signora che Paola Severino è interessante va beh insomma mi avvio alla fine e vi ho lasciato due cosette come dettagli la donna del migliore la signora Neil Deiotti vedete passano gli anni ma siamo sempre un po' lì guardatela qua eccola col fulà presidente della camera consiglia ovviamente siamo tornati allora il nodo del fulà la spilla ancora no anche su questo sarebbe da dire e ultimo ma non ultimo insomma eccolo qua e con questo avrei finito grazie grazie